ciao a tutti oggi vi parlo di una vicenda che riguarda un personaggio di grande livello molto conosciuto a ravenna ma forse non abbastanza stiamo parlando di questo ometto che vedete sulla jeep se guardate con attenzione vedete che al posto della mano sinistra ha una specie di uncino come capitano uncino perché per una ragione molto semplice la mano sinistra gli venne tranciata al polso da una raffica tedesca lotto il 9 di dicembre del 1944 durante la battaglia delle valli questo ometto che si chiamava morto nel 51 si chiamava vladimir peniakov ma aveva come nome battaglia popski ed era universalmente conosciuto come popski era il comandante di uno strano reparto di spostati di grande fegato di grande coraggio che operavano dalla libia nel 40 a all'austria nel maggio del 45 dietro costantemente dietro le linee tedesche e operavano su queste jeep pesantemente armate vedete che una piccola jeep ci sono due enormi mitragliatrici una sinistra e una la vedete sulla destra e questo reparto era chiamato ufficialmente number one demolition squadron ovvero sia squadroni demolizione numero uno ma era conosciuto da tutti come il pop ski private army cioè l'esercito privato di posti strani tipi gli inglesi molto formali in tutto ma avevano alcuni reparti di questo tipo che erano assolutamente fatti da irregolari ma di un coraggio di una capacità incredibile potrei parlarvi a lungo di popski riferimento all'incontro con i partigiani a sud di ravenna con quelli dei staccamento garavini conati o minghelli il suo ruolo nel salvataggio della basilica di classe ma questa volta ve ne parlo in riferimento alla battaglia delle valli il 5 6 di dicembre quando gli alleati rinunciano a salire e nella loro offensiva dopo aver liberato ravenna fino a sant'alberto al fiume reno si fermano a metà strada ma mandano questo corpo speciale erano in tutto meno di un centinaio di uomini su un certo numero di gip ad aiutare i partigiani nel nel ripiegamento di fronte alla controffensiva tedesca e lui si butta a piedi pari in questa impresa come faceva sempre lui sui ufficiali john campbell bob yoni e jean cannery e durante un'azione in mezzo alla pineta che vedete sullo sfondo della slide gli arriva una raffica di mitragliatrice tedesca e gli trancia di netto il polso vediamo come la raccolta ve lo leggo abbasso gli occhi perché devo guardare stavo girando intorno alla gip per prendere un nastro di munizioni quando qualcosa che faceva poco rumore mi fracassò il polso sinistro le ossa e la carne del polso e dell'avambraccio erano in poltiglia la mano era sana ma penzolava livida come morta mentre le unghie diventavano nere non vera dubbio che avrebbe dovuto essere amputata lo racconta qualche anno dopo ma con molto aplomb con molto distacco e aggiunge sorprendentemente ero contento di essere stato ferito in una circostanza come quella più che contento mi aveva invaso una pace gioiosa una serena certessa di adempimento durante tutta la guerra avevo dato la caccia a un fantasma e ora finalmente ero capitato in qualcosa di solido la mia ferita era reale e nessuno poteva togliermela e questo descrive tutto il personaggio il suo coraggio il suo eroismo anche la sua come dire questo suo tono molto molto enfatico molto spigliato aggiunge poi con un distacco tipicamente britannico lui non era cittadino britannico al momento era cittadino belga di origini russe diventò cittadino britannico solo nel 46 ma lo spirito era quello a un certo punto lo ricovero in ospedale il chirurgo mi rivolse poi una domanda che scosse la mia meravigliosa pace da quanto tempo siete stato ferito sollevai il polso maciullato dove avrebbe dovuto essere l'orologio andato andato il mio eccellente orologio svizzero che avevo portato durante tutta la guerra un orologio che sgarrava meno di due minuti in un mese questa è la storia di popski a nord di ravenna qualche altra volta vi racconterò le storie di popski a sud di ravenna ma qui siamo nella pagina e nel nel canale youtube dell'isola di spinaroni e quindi posso solo parlare della battaglia delle valli e di quel che li seguiva grazie arrivederci